Da Marco Damilano e siamo sempre con Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Ne abbiamo parlato più volte nel corso della puntata. È arrivata una importante esponente del Partito Democratico. Ci dica lei cosa pensa il PD di questa guerra. Pensa che sia una guerra orrenda, una guerra di invasione, una guerra che non si vedeva in Europa con questo profilo dalla Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che va fermata, soprattutto dopo l'orrore terribile che è nei nostri occhi e nei nostri cuori di bucia, dove penso che tutti hanno potuto vedere con i loro occhi cosa sta accadendo in Ucraina. Una strage. Oggi, proprio durante quelle ore, mi ha molto colpito, visto che è stato già citato, l'articolo che è uscito sul Ria Novosti, che svela un piano in 25 anni del Cremlino per far cambiare il nome all'Ucraina e per, diciamo, mettere a bada la popolazione che si oppone. Quindi parlano di denazificazione dell'Ucraina, dove si dice che sulla massa, la massa che non può essere educata in altro modo, bisognerà agire. Ora, io le dico che questo è qualcosa di inaccettabile per le coscienze, di tutti, in particolare per chi, come nel nostro Paese, ha combattuto per la libertà e per la giustizia. Quindi quello che sta avvenendo è qualcosa di terribile che cambia la nostra storia e noi dobbiamo agire e dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo per fermare questa guerra. Alessandro Di Battista, cosa non capisce della posizione del Partito Democratico italiano? Allora, a parte credo che la posizione della dirigenza del Partito Democratico non sia quantomeno nella sua totalità accettata dalla base del Partito Democratico. Ad ogni modo, quando la deputata Lorenzi dice dobbiamo agire, cosa significa? Ripeto, inviare più armi, quelle di oggi non sono bastate, occorrono altre armi, inaspirire le sanzioni. Siamo tutti d'accordo che la guerra debba essere fermata. Vorrei ricordare, deputato Lorenzi, lo faccio con rispetto, che lei nel 2011 era deputata di Forza Italia e votò a favore di una guerra in Libia, l'ho citata a poc'anzi, una missione che doveva rendere democratico il paese libico, sempre ovviamente portata avanti con, in quel caso, la scusa di diritti umani, perché poi l'obiettivo era francese, eliminare gli interessi italiani, soprattutto in Libia, e anche Obama-Clinton. C'era Sarkozy all'epoca. Qual è il risultato oggi, dopo 11 anni? Vi sarete pentiti di quell'intervento in Libia, perché oggi la Libia è un paese che non esiste, in cui è stata fatta l'ennesima guerra per procura a danno della popolazione civile. Ha aumentato il terrorismo, ha aumentato i flussi migratori, e oggi è un paese che non esiste, anzi, paradossalmente, turchi e russi, ovvero eserciti di due paesi considerati autocrati, sono presenti sul territorio libico, all'interno di quello che era il nostro maggiore alleato nel Mediterraneo prima dell'intervento armato. Quello che io contesto è, possibile che dopo tanti anni si possa pensare che l'unica risposta debba essere la risposta militare. Se la Lorenzin sostiene legittimamente che abbiamo a che fare con una guerra tra il bene e il male, a questo punto è più coerente che il governo che lei sostiene, io no, invii l'esercito, le a Nato intervenisse, faccia la terza guerra mondiale con le conseguenze che conseguiranno per tutti quanti, altrimenti si continua a fare una guerra per procura sulla pelle dei cittadini ucraini vendendo armi e dando armi occidentali. Allora, innanzitutto, qui purtroppo non stiamo giocando a risico, quindi questa non è una conversazione amabile sui sé e sulla storia. Nel 2011 c'è chi sosteneva l'operazione in Libia contro Gaddafi, lei sosteneva Maduro, cioè ognuno di noi ha avuto delle posizioni rispetto a grandi movimenti storici, però qui ci siamo trifonti a una realtà, la realtà è oggi, la realtà oggi è che la Russia ha invaso l'Ucraina, la realtà oggi è che la Russia non la fermi con i buoni pensieri, quindi più armi, e no, tu sossieni, allora lei è contro le armi, è contro le sanzioni, lei sta dicendo più armi, battendo, la resistenza non è impedito dal diritto internazionale sostenere le resistenze e aiutare la resistenza, è impedito dal diritto internazionale invadere un altro paese con i carri armati, e questo è il punto, cioè l'aggressore è Putin, non siamo noi, noi stiamo sostenendo, e ne pagheremo anche un prezzo, stiamo sostenendo l'Ucraina, e lo facciamo con le sanzioni, e lo facciamo aiutando la resistenza. Di Battista, guardate che non serve,